Qual è il progetto di città di Marcella Carlisi, candidata a sindaco del Movimento 5 Stelle? È una città a misura di cittadini, noi vogliamo ascoltare i cittadini e prendere assieme a loro quelle determinazioni che sono importanti per la vita in città. Non possiamo pensare che si facciano gli interventi senza che i cittadini che devono poi vivere in quelle piazze, in quei luoghi, in quelle strade, ne sappiano nulla. Quindi la nostra è una democrazia veramente partecipata, sarà una democrazia veramente partecipata. È possibile una rigenerazione umana urbanistica della città di Agrigeno? La rigenerazione urbana soltanto attraverso lo sviluppo economico. Noi abbiamo cercato di dare soluzioni per fare restare i giovani e quindi per garantire anche quelle frazioni fragili della popolazione, come per esempio gli anziani che in questo momento sono totalmente abbandonati perché i figli sono andati fuori. Quindi per noi abbiamo indicato tantissime attività, tutte legate al turismo. Noi abbiamo indicato un assessore che è molto ferrato in questo campo e abbiamo tantissimi collaboratori che veramente di turismo ne sanno tanto. E quindi ci aiuteranno a sviluppare questo settore per la città di Agrigento. Una sua priorità? Lei è stata per cinque anni consigliera comunale d'opposizione? Mettere il cittadino al centro della città. Quindi il cittadino deve sapersi muovere, deve avere tutte le informazioni per avere ciò che desidera, quindi servizi o informazioni in maniera facile e non deve andare a chiedere il favore a nessuno per avere queste cose che gli spettano di diritto. Quale è il progetto di città di Marco Zambuto? Un progetto di città reale, vero, che vede soprattutto la partecipazione dei cittadini. Abbiamo invece, e dall'incontro di oggi è emerso in maniera molto chiara, avuto in questi anni raccontato una favola di una città che cambiava, di una città nella quale c'era un'idea, ma abbiamo visto che c'è stato soltanto il nulla. Un racconto di una fiabba rispetto a una vita reale assolutamente diversa, assolutamente altra. C'è stata raccontata una favola, non c'è un finanziamento, non c'è un progetto che è stato portato avanti e realizzato in questi anni. L'abbiamo preso atto anche qui nel confronto con gli ordini professionali e soprattutto è stata commessa nei confronti della città di Agrigento una grande colpa, cioè quella di avere bloccato il piano regolatore generale che attendeva soltanto le prescrizioni esecutive, un procedimento amministrativo che era stato portato avanti nel corso degli ultimi vent'anni. Quindi rispetto a questo non c'è un problema di chi se lo deve intestare, sarà l'amministrazione di Tizio o l'amministrazione di Caio. È chiaro che facendo parte della pubblica amministrazione ci sono cose che inizia chi viene prima di te e poi tu vai a proseguire, vai anche a definire. Bene, rispetto al piano regolatore generale della città che è quella strumentazione rispetto alla quale tutti i cittadini attendono per avere legittimamente risposte ai propri interessi legittimi nel momento in cui dovevano realizzarsi le prescrizioni esecutive è stato rimesso tutto in discussione quindi non dando più una definizione sui tempi di realizzazione e soprattutto non individuando alcun gruppo di progettazione lasciando le cose in aria, assolutamente in aria. Non è possibile questo per una città che invece è bisogno proprio di ripartire. In questi anni è stato messo il tasto pausa nella vita quotidiana della città. Occorre ripartire andando a recuperare finanziamenti. Questa è una città che in questi anni ha recuperato forse 3.000 euro come finanziamenti esterni e siamo stati di fronte a un nulla che va assolutamente superato. Il progetto di città di Daniela Catalano sembra soprattutto incentrato su due categorie fondamentali ma deboli che sono gli anziani e i bambini. Certamente è un progetto che non può non tenere conto di due categorie che sono quelle più deboli e sono quelle che abbiamo il dovere di tutelare per quello che hanno dato a noi e per quello che noi dobbiamo impegnarci a dare a loro. Questo significa poi un po' tutto. Significa abbandonare il concetto di periferia che ovviamente richiama a una marginalità funzionale, economica e di servizi e quindi abbandonando questo concetto e partendo da una visione che è di unicità ma unicità, città unica, noi dobbiamo dare servizi e parliamo di cose semplici di parchi giochi, di punti di incontro, di viabilità più costante non ovviamente una tantum, in orari non sempre utili per le esigenze di tutti in modo tale che sia tutto un grande centro. In questo grande centro il bambino, la mamma, l'anziano possa trovare quella sua autonomia che in questo momento non ha. E poi la cosa che è molto suggestiva è che è di facile attuazione cioè se noi gli sforzi impiegati nella ricerca dello spot più carino li avessimo impiegati mettendoci attorno a un tavolo pensando a una pubblicità seria di Agrigento avremmo potuto, ve lo potremmo fare, ed è una cosa che non ha costi eccessivi assolutamente un brand Agrigento. C'è un marchio Agrigento dove c'è ovviamente tradizione culinaria perché ne sappiamo benissimo che il nostro patrimonio culinario è un'attrattiva turistica fortissima brand che deve includere ovviamente il mare, il Lido, il centro storico la Valle dei Templi che siamo noi che è gestita ovviamente per ragioni anche di migliore tutela ma che è una parte del nostro territorio e rispetto alla quale noi lotteremo per il recupero di quel 30% dello sbigliettamento che è veramente uno sfregio alla città e alle esigenze che la città ha su un territorio e su beni che sono all'interno del nostro territorio e perché no, per la passione che un po' tutti i cittadini hanno non parliamo di sagre, parliamo di capitale del folklore c'è tutto questo in un brand, in un marchio che può farci diventare qualcosa di eccezionale.